A Roseto, dopo le proteste mosse da opposizione comunale e associazioni cittadini sulla questione della variante parziale al piano regolatore generale fatta dall'amministrazione comunale, è arrivato il parere da parte della Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provinci di L'Aquila e Teramo. È espresso, motivato e articolato, parere negativo circa l'approvazione della variante stessa, ritenendola incompatibile con gli interessi pubblici coinvolti. In particolare al centro della questione che ha acceso il dibattito c'è la volontà del Comune Costiero di voler concedere un implemento all'altezza degli immobili presenti sul litorale rosetano. Sono state fatte le osservazioni contro questa che noi riteniamo una variante assolutamente da non fare, una variante che consentirebbe la modifica del profilo del waterfront, alzandolo fino a 10,5 più gli attici, quindi si arriva a delle altezze di 13-14 metri e quindi come qualcuno ha detto da lungomare diventerebbe un lungomuro con maggiore ombreggiamento della costa, ostacolo, una barriera visiva verso la quinta collinare, quindi assolutamente muterebbe proprio l'identità anche dei luoghi, quindi l'identità cittadina. Si è pronunciata la soprintendenza e ha detto che assolutamente questa variante, così come non può passare in adesione quindi a quelle che sono state le nostre osservazioni e con un parere che tra l'altro anche tecnicamente è vincolante e che pone una pietra tombale su questa variante. Quindi con tale parere la soprintendenza ha posto fine all'iter di approvazione della variante sulle altezze e chiusura portici, una decisione questa che secondo le associazioni scese in campo per dire no alla variante permetterà di salvaguardare il territorio, il paesaggio e la popolazione di Roseto degli Abruzzi. Qui si era previsto di alzare di un piano almeno, ma per gli edifici monopiano sarebbe stato di due o tre piani, senza calcolare quale sarebbe stato il carico di nuova popolazione, quindi senza prevedere nuovi standard, cioè nuovi parcheggi, nuovo verde pubblico, nuovi sottoservizi, quindi era una variante assolutamente da evitare e probabilmente è stata evitata.